niki giusino il disturbatore televisivo per altromasi a www.niki giusino.it è mercoledì 2 luglio 2014 sono le ore 12.34 allora perché questo video? su internet impazza un video su come catturare le zanzare cioè come eliminare le zanzare all'interno di una casa io sono in grado di dirvi come eliminare le zanzare sto aprendo la mia moto come eliminare le zanzare all'interno di un'abitazione senza fare acqua, zucchero con la bottiglia aperta basta vestirsi di un verde militare voi vi vestite di un verde militare girovagate per casa e vedrete le zanzare come vi si allontanano insomma avete capito? vi ho detto che basta mettersi un abbigliamento militare all'interno dell'abitazione oppure basta andarci in giro questo qui è un colore militare e le zanzare vi pizzicheranno più negigiusino.it è il sito del disturbatore televisivo per l'antronomasia l'unico e originale sito diffidate dalle imitazioni iscrivetevi al canale se vi va commentate il video e condividete il video negigiusino.it salve iscrivetevi al canale